eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi torniamo a parlare di black ops 4 perché ieri sera ad avizio vi ho portato dei trailer in anteprima relativi ai nuovi contenuti arrivati e in arrivo su black ops 4 quindi facciamo un attimo il punto della situazione il personaggio del replacer che praticamente vi avevo già anticipato alcuni giorni fa è adesso disponibile come personaggio giocabile all'interno di blackout c'è proprio un pacchetto disponibile all'interno del black market questo pacchetto il replacer bundle arriverà anche la prossima settimana su xbox one e pc finalmente ieri sera vi ho mostrato anche un mini teaser trailer della nuova mappa ancient evil attesa già dal dlc2 stranamente infatti questa mappa zombies esce più tardi rispetto alle mappe multiplayer finalmente la trailer che ha svelato anche la data di uscita ufficializzato il 26 di marzo ancient evil nuova mappa zombies su black ops 4 in anteprima temporale come sempre su ps4 una settimana dopo su xbox one e pc inoltre è arrivato anche un aggiornamento versione 1.15 su ps4 xbox one mentre è arrivata la versione 1.14 su pc perché non era arrivata la settimana scorsa la pace di 161 megabyte su ps4 39 megabyte su xbox one e 9,2 gigabyte su pc principalmente questo aggiornamento è andato a correggere fix correzioni e quant'altro all'interno del gioco inoltre vi confermo che ieri sera è arrivato l'evento shell rock e wave all'interno del multiplayer play out zombie su xbox one e pc a una settimana ovviamente dal rilascio su ps4 è arrivato l'evento alcatraz gauntlet aggiunto sempre su ps4 la settimana scorsa e tutte le novità che abbiamo visto la settimana scorsa su ps4 sono arrivate finalmente anche su xbox one e pc rimanete sintonizzati perché ho tante novità sul nuovo call of duty su call of duty mobile e su black ops 4 da portarvi in questi giorni qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo ad un prossimo video